Un saluto dal Tg della Mobilità. Sabato pomeriggio è in programma una doppia manifestazione contro il Green Pass. Dalle 14.30 alle 20 circa 1.500 persone si raduneranno in piazza di Porta San Giovanni. Mentre dalle 15 alle 19 circa 800 persone sfileranno in corteo da piazza dell'Escudino a piazza Madonna di Loreto, passando lungo via Cavour, largo Visconti-Venosta, via Cavour, largo Corrado Ricci e via De Fori Imperiali. In entrambi i casi possibili chiusure al traffico e deviazioni al trasporto pubblico. E per lavori in via San Pantaleo-Campano è deviata la linea 713 circolare proveniente dal capolinea Bosco degli Ervali. I bus da via Albarese proseguono per via Sacco-Newton direzione centro, quindi in versione di marcia all'altezza del civico 43. via Sacco-Newton è normale itinerario, temporaneamente soppresse, tre fermate. E tutto appuntamento alla prossima edizione.